ciao ragazzi allora benvenuti a questo nuovo episodio di lo sapevi che oggi parliamo del trukmerstan un territorio di cui io personalmente so praticamente molto 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 poco ma che è venuto così alla luce questo troppo alla ribalta perché perché il suo leader vuole chiudere guts of hell fire e quindi il fuoco da questi cancelli dell'inferno che cosa sono i cancelli dell'inferno se non avete letto le notizie sono qui per aggiuntarvi i cancelli dell'inferno non sono altro che una depressione una depressione naturale come un cratere che si è creato perché perché negli anni 60 e soprattutto negli anni 70 in maniera più intensiva i russi sono andati in turkmerstan perché hanno pensato che quel particolare territorio che si trova a circa 260 chilometri a nord di ashkabat che è la capitale hanno pensato che quel particolare territorio fosse un ottimo territorio perché poteva essere ricco di oil e quindi di petrolio hanno pensato che quello fosse poi il field hanno cominciato a fare dei trulling a fare delle perfonazioni nel terreno e hanno scoperto una cosa molto interessante che col terreno è pieno di metano il metano il gas che tutti noi conosciamo che abbiamo usato nelle nostre bambole per cucinare il metano ha creato durante le preparazioni una specie di cratere questo cratere è di un diametro di 60 metri e di una profondità di circa 20 metri quindi abbastanza importante in questo cratere praticamente c'è la metano per cui i russi hanno abbandonato c'è un po di metano non ci facciamo niente e basta dopo di che hanno pensato beh il metano è pericoloso li diamogli un po a fuoco e questo è successo un po più tardi i geologi hanno pensato diamogli un pochettino a fuoco vediamo un pochettino di esaurire il metano di questo territorio e così eliminiamo il problema di metano naturale in questo territorio e hanno dato a fuoco il problema è che quel fuoco non si è più spetto quel fuoco non si è più spetto e continua a bruciare il metano continua a esserci e continua a alimentare appunto il fuoco per cui in questo territorio o questo territorio più eletto non so si chiama Guts of Hellfire allora il leader del Turkmast che anche lui aveva fatto praticamente con una specie di furgoncino di quelli con cui va nei sentieri aveva fatto un tour quando voleva essere eletto attorno a questo cratere il leader ha deciso no no dobbiamo far finire il fuoco forse questa può essere una trovata pubblicitaria di marketing non lo so fatto sta che questa sarebbe la sua decisione un elemento invece più interessante per me rispetto a tutta questa vicenda è il fatto che straordinariamente I would say nel 2014 un tizio che non conosco scusate tale tizio appartiene a una troupe del National Geographic è andato in Turkmenstein e si è spinto fino alle profondità del cratere quindi circa intorno ai 20 metri di profondità e ha scoperto l'esistenza di quelli che si chiamano extra mobile organisms che sono praticamente dei piccoli organismi che sopravvivono in circostanze assurde per cui questo l'ho trovato veramente veramente interessante allora fatemi sapere che cosa ne pensate commentate qui sotto ovviamente se questo video vi è piaciuto lasciate un like noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo episodio non dimenticate di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e attivare la campanella per ricevere tutti i nostri aggiornamenti noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo video ciao